gentile pubblico e storia 2023 diciannovesimo festival internazionale della storia vi dà il benvenuto nella tenda erodoto il festival ideato dell'associazione culturale e storia organizzato con la camera di commercio venezia giulia e coorganizzato dal comune di gorizia con il supporto determinante della regione autonoma friuli venezia giulia e l'essenziale contributo della fondazione cassa di risparmio di gorizia la manifestazione gode del patrocinio del ministero della cultura del parlamento europeo della regione autonoma friuli venezia giulia della fondazione cassa di risparmio di gorizia dell'associazione italiana editori delle università degli studi di trieste di udine e di padova e del sostegno delle amministrazioni pubbliche di sponsor privati e degli amici di e storia cui vi invitiamo ad aderire l'arredo del palco è gentilmente concesso dell'amoroso di udine che ringraziamo per la collaborazione sta per iniziare l'incontro intitolato le donne nel mondo greco e in quello romano intervengono giuliana cadelli e de leonora pischedda coordina alessio soccol l'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it tra un incontro e l'altro per motivi tecnici e di sicurezza invitiamo il pubblico a lasciare la tenda ricordiamo ai gentili ospiti di silenziare o spegnere il proprio telefono segnaliamo infine il concerto di stasera di accordi disaccordi che si terrà qui nella tenda erodoto alle ore 21 vi aspettiamo buona storia a tutti buongiorno e benvenuti al primo incontro di questa giornata parlare della questione femminile nel mondo antico non è operazione semplice e parlare in un'ora ancor meno le fonti documentarie sono piuttosto esigue e salvo casi speciali presentano il punto di vista maschile sul mondo femminile nell'antichità sono rarissimi casi in cui a scrivere delle donne siano le donne stesse in secondo luogo delle donne della loro storia ci si è occupati solo negli ultimi decenni il mondo accademico è sempre stato patriarcale passatemi la l'espressione e l'affacciarsi degli studi sul femminile è andato di pari passo con la crescita del movimento femminista in italia una pioniera di questi studi è stata certamente eva cantarella che storia ha ospitato più volte ed una delle linee di indagini più interessanti sua e di altri studiosi è certamente l'esplorazione della nascita e della formazione degli stereotipi di genere cioè della cristallizzazione di quei ruoli che le società tutte le società chi più chi meno attribuiscono al maschio e alla femmina ed è interessante capire che questi ruoli che sono poi diventati delle gabbie risalgano a molti secoli addietro almeno spesso e che noi ci siamo spesso così abituati da rischiare di percepirli come assolutamente naturali in questa chiave lo studio del nostro passato è funzionale a gettare luce su quello che siamo noi oggi per dirle in altre parole noi guardiamo al mondo antico con gli occhi o forse con gli occhiali della della modernità gli poniamo delle domande che nascono dalle grandi questioni che ci si agitano davanti per esempio questo capita anche per il tema delle migrazioni mai questo tema è stato così studiato come negli ultimi anni gli studiosi dell'ottocento non lo consideravano nemmeno nel loro panorama di studi io non vorrei togliere altro tempo al pubblico e concentrarci ad ascoltare le ospiti che voglio presentarvi brevemente giuliana cadelli triestina si è sempre occupata del gender system fin dalla sua tesi di laurea in storia delle religioni in cui ha studiato a fondo una delle figure divine più importanti del panteon greco cioè afrodite ha collaborato con università di trieste formatrice accreditata presso l'ufficio nazionale del servizio civile continua a studiare mitologie storie religiose del mondo antico queste cose sono come una specie di di tarlo che comunque ti vive dentro anche quando magari fai altro e il suo sguardo è concentrato particolarmente sulla condizione del femminile le trasgressive il coraggio di dire no modelli di disobbedienza femminile nel mondo antico dovrebbe esserci proiettata da qualche parte la copertina dei del libro suo e della dell'altra relatrice leonora pischetta vi dicevo che questo libro è il tema del del della conversazione di oggi assieme ad un altro libro di cui autrice l'altra delle nostre ospiti e leonora pischetta che si intitola i greci romani i romani e le donne e leonora viene dall'università di siena dove ricercatrice di storia antica presso il dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche moderne spero di aver detto bene se non mi sgridano ed è specializzata in economia dritto e antropologia del mondo antico finora si è occupata soprattutto di economia e amministrazione nell'atene del quarto secolo tanto in ambito pubblico che in ambito privato e dove rientra appunto lo studio del del ruolo della donna nell'antichità senza citare altri particolari del loro curriculum e le pubblicazioni che ci porterebbero via un po di tempo do subito loro la parola riproponendo la domanda da cui siamo partiti perché un libro dedicato alle donne nell'antichità giuliana e leonora nel nell'ordine a voi la parola grazie grazie alessio grazie a tutti di essere qua e a storia per questo per questo invito allora perché è un libro sulle donne ma fondamentalmente perché ne possiamo parlare all'infinito ma la discriminazione di genere è ancora un elemento da cui non possiamo prescindere perché è assolutamente attuale lo attuale in tutte le sedi e attuale in tutti ed è potremmo definirlo un denominatore comune che attraversa l'intero globo sicuramente ci sono stati fatti passi avanti in alcune culture ma l'ho sempre sentito comune come una una problematica da cui non siamo usciti e cito sempre questa particolarità delle quote rosa le quote rosa sono un provvedimento appunto che più o meno tutti conoscono atto a equilibrare la presenza dei maschile femminile nei luoghi così decisionali nei luoghi di potere o comunque e e in qualche modo è un provvedimento che in sé e quanto di più discriminatorio possa esistere nonostante ne abbiamo bisogno nel senso che ci obbliga ci ammette un provvedimento coercitivo per avvalerci dell'operato delle donne per non essere tacciati appunto di essere discriminanti quando invece in realtà ci dovremmo avvalere del loro operato esattamente come quello degli uomini senza perché senza che ci sia una diciamo costrizione lo stesso è il fatto di essere qui il fatto di essere qui e il fatto che nasca uno due libri sulle donne in un mondo ideale non ce ne sarebbe bisogno nessuno sente il bisogno di scrivere un libro su gli uomini nel mondo antico gli uomini nel medioevo e sono metà del genere umano cioè questo ce lo dobbiamo ricordare cioè anzi anche un po anche un po di più siamo quindi la stessa rassegna di quest'anno di storia dedicata alle donne quindi c'è la necessità perché è qualcosa che non abbiamo superato ed essendo io appunto una grecista ed essendo convinta che le radici di questo vanno cercate proprio in quella che è il nostro sostrato culturale che è sicuramente nella civiltà occidentale il mondo classico il mondo diciamo giudaico cristiano ed essendo però appunto io una grecista ho sentito l'esigenza proprio di andare alle radici io sarò un pochino più autoreferenziale nel rispondere spero mi perdonete nel senso che vi dirò come sono arrivata a scrivere questo libro sulla donna mentre mi occupavo infatti dei vari cambiamenti o corsi in ambito economico sia a livello privato che pubblico nell'atene del quarto secolo mi è capitato di dover studiare in maniera abbastanza approfondita una delle cosiddette opere minori di senofonte ovvero l'economico all'interno di quest'opera l'autore dedica uno spazio piuttosto importante all'educazione delle giovani spose e all'importanza di un loro ruolo attivo all'interno dell'amministrazione domestica dove per amministrazione intendiamo ad esempio la gestione dei servi delle derrate lo stoccaggio e la conservazione dei vari prodotti derivanti dalle attività legate all'oicos quindi alla casa e alla famiglia in senso più lato la descrizione della giovane sposa e dico giovane perché aveva meno di 15 anni mentre il marito ne aveva almeno il doppio quindi siamo sui 30 viene affidata alle parole appunto del marito Iscomaco un cittadino atteniese in dialogo con Socrate che sicuramente conoscerete no spero così ogni tanto Iscomaco ci presenta la giovane moglie come innanzitutto come un animale da domesticare molto ingenua vittima di una segregazione fisica e sociale ignorante mansueta proprio come insomma si userebbe dire di un cavallo all'incirca insomma insiste tanto ce la presenta quasi come una sorta di oserei dire vaso vuoto in attesa di essere riempito dei saggi ovviamente giustissimi consigli del marito di fronte a questa descrizione a questo ritratto fin troppo perfetto dal punto di vista di un ateniese di età classiche ho iniziato ad avere moltissimi dubbi ho iniziato a chiedermi quanto ci fosse di vero nelle parole di Iscomaco e soprattutto se non fosse possibile per una donna antica sia greca che romana costruire una sorta di mondo parallelo all'interno un mondo parallelo femminile quindi opposto se vogliamo certamente distaccato da quello pubblico che era tipicamente maschile all'interno del quale poter esprimere la propria soggettività e magari anche conquistare una sorta di libertà di azione per rispondere appunto a queste domande ho deciso di scrivere questo libro in cui ho lasciato parlare per lo più le fonti quindi non sono parole mie ma quelle degli autori antichi grazie mi rivolgo nuovamente a Giuliana per parlare di mito e di prime donne la mitologia greca è non solo quella greca in qualche modo fissa fin dalle origini del mondo il ruolo di subalternità della donna rispetto all'uomo al maschio e in questo senso è esemplare direi la narrazione che Esiodo, il poeta Esiodo, ci fa di Pandora la prima donna della mitologia greca anche altre culture per la verità ci tramandano quasi in parallelo delle storie simili a quella che ci raccontano le opere esiodesi come ci piace particolarmente farci raccontare delle storie allora ecco a te esatto il mondo greco inizia subito cioè sin dal mito io mi occupo principalmente di mitologia il mito ricordiamolo tutti non è un racconto qualsiasi è una narrazione, un racconto ma un racconto fondante è un racconto a cui la cultura greca attribuisce il valore di verità cioè la divisione che facciamo noi tra diciamo collocando il mito dalla parte delle favole del favoloso del tra virgolette falso e quanto di più lontano da quello che è invece il pensiero greco quindi il mito è vero quindi al di là del del fatto che venga ammantato di una narrazione di una storia che può essere anche estremamente bella da sentire infatti ci piace raccontare i libri di mitologia sono le cose che diamo ancora ai bambini per fortuna ma proprio perché sono delle belle storie ma dietro quelle belle storie c'è una verità ora cosa ci racconta Esiodo? Esiodo ci racconta che in entrambe le sue opere sia nelle opere ai giorni sia nella teogonia ci racconta la nascita di questo essere mi verrebbe da chiamare che è la donna e non ci racconta la nascita dell'uomo perché l'uomo non ha un mito di nascita gli uomini ci sono sempre stati sono sempre esistiti sono Esiodo li definisce i gegeneis sono quelli che sono quasi coevi all'emersione della terra del caos vivono una vita felice insieme agli dei poi però cosa succede? succede che gli dei greci sono spesso irascibili diciamo se se fai loro un torto diciamo di solito non viene dimenticato Zeus decide di punire gli uomini in realtà perché erano stati beneficiari anche incolpevoli se vogliamo di un dono da parte di Prometeo Prometeo aveva rubato il fuoco lo aveva donato agli uomini Zeus questa cosa non così non lo non è molto contento quindi decide di punirli e la punizione per il uomo è l'invio la creazione e l'invio sulla terra di una donna che basterebbe già questo potremmo già fermarci qui se vogliamo quindi la donna che viene creata a bella posta proprio dalle divinità Efesto la foggia è una sorta di quasi di statua di Agalma dice il greco è interessante che poi si chiama Pandora che significa tutti i doni perché ogni ogni divinità dona a Pandora qualche cosa e che cosa vengono donati quelle che sono le potremmo definirle le armi della seduzione perché Pandora è molto bella le donano desiderio le donano grazia un volto splendente un corpo splendente perché deve sedurre ma contemporaneamente le donano infidi pensieri menzogna una mente ambigua e diventa veramente il prototipo della femme fatale che poi corre in tutta la cultura dove la donna è pericolosa è pericolosa perché è seducente ma contemporaneamente è un esiodo la chiama un pema toys bro toys viene mandata come un danno per gli uomini mortali che fino a quel momento erano vissuti felici è fondamentale questo ma noi vediamo specularmente che anche la la civiltà la cultura giudaico cristiana ci propone una prima donna altrettanto negativa se vogliamo che Eva che magari veramente predominio e dominio di tutti Eva è la prima disobbediente della storia Eva decide di trasgredire e prende il frutto dall'albero proibito ma l'albero proibito era un albero della conoscenza quindi Eva decide che vuole conoscere decide che vuole sapere decide di trasgredire prende la mela e tutti sappiamo poi come va a finire no? questo determina la cacciata dal paradiso terrestre ci obbliga a portarci il fardello del peccato originale e in qualche modo determina una situazione estremamente negativa per gli uomini ancora una volta determinata da una donna e poi forse non so non dico la più interessante però è veramente una figura forse anche perché è meno conosciuta la terza se vogliamo prima donna è Lilith Lilith forse l'avete conosciuta ho sentito nominare di meno ma Lilith è una prima donna è la prima sposa di Adamo compare anche questa nei testi ebraici però nei testi ebraici diciamo del Talmud della letteratura talmudica e Lilith al contrario di Eva che nasce dalla costola di Adamo Lilith nasce dalla polvere esattamente come Adamo e quindi esattamente come Adamo reclama di avere gli stessi diritti cioè sembra la cosa più logica del mondo ma così non è e li rivendica a tal punto che li vuole anche nella posizione sessuale nella posizione del coito non accetta di essere in una posizione di subalternità ovviamente il dio cristiano il dio ebraico dice no tu devi essere soggetta all'uomo ma Lilith non ci sta quindi Lilith fugge fugge dall'Eden si rifugia tra i demoni il dio manda una schiera di angeli a chiamarla a riportarla all'ordine ma Lilith ovviamente rifiuta ed è significativo perché da quel momento in poi Lilith diventa anche nell'immaginario un demone un demone spesso è associato a una civetta un rapace che nella notte viene a rapire o a uccidere i bambini maschi e subisce dalla cristianità una sorta di proprio damnazio memoria è considerata il negativo in assoluto e mi ha colpito una cosa che anche la cultura più popolare se vogliamo anche più cioè quella delle serie tv perché identifica in Lilith sempre uno dei dei demoni più pericolosi ma Lilith in realtà è il simbolo di una giusta trasgressione di chi dice io sono nata esattamente come l'uomo e voglio avere gli stessi diritti e forse proprio da lì sono un po' partita per il il proseguo del libro cioè capire che si può trasgredire ci sono delle cose interessanti anche nella stratificazione dei racconti biblici si dice Dio creò l'uomo uomo e donna li fece da qualche parte quindi l'arrivo successivo insomma del femminile è discutibile da questo punto di vista poi lo dico per i ragazzi se pensate che Dio crea il mondo dalle creature meno perfette a quelle più perfette e la donna è creata per ultima qualche dubbio dovrebbe venire magari dovrebbe venirci soltanto che come al solito poi il sacerdozio è tipico cioè è appannaggio del maschile quindi anche il racconto in qualche modo si adegua a Eleonora con Eleonora vorrei proseguire nell'analisi del tema del femminile come paradigma di sottomissione di subalternità passando dal mondo del mito al mondo invece della realtà storica la filosofia greca teorizza l'inferiorità Aristotele della donna rispetto al maschio e questo trova riscontro nelle società greche di cui abbiamo notizia nelle pochissime opere come dicevamo prima che ne parlano sono sempre maschi gli autori per esempio Senofonte che è stato già citato ma anche Elisia o la Commedia per esempio e allora a grandi linee visto il poco tempo che abbiamo qual era questa condizione come essa variava a seconda dei luoghi a seconda delle delle città delle diverse tradizioni che il mondo greco porta avanti sì dovendo parlare di subalternità io parlerei dell'ambito per eccellenza all'interno del quale la donna è sempre stata oggettificata ovvero quello familiare all'interno di questo ambito infatti la soggettività della donna viene annullata dal suo stesso corpo viene considerata in quanto femmina e non individuo a sé per essere ancora più specifici la donna non è soltanto un oggetto in ambito familiare è un tramite è un tramite per la sopravvivenza della famiglia perché genera figli è un tramite per gli accordi sociali economici e politici perché attraverso un matrimonio combinato vado a suggellare un accordo e lo rendo duraturo e manifesto a tutti soprattutto è un tramite perché nel suo piccolo attraverso la dote garantisce anche una sorta di redistribuzione della ricchezza per tutte queste ragioni chiaramente la donna non poteva decidere come quando e con chi sposarsi questa decisione aspettava al padre o al massimo al tutore legale ma certamente non a lei è chiaro che nel corso della storia sono esistite delle eccezioni per esempio Erodoto ci parla di Caglia che era uno dei cittadini atteniesi più ricchi potenti e apprezzati della città talmente ricco e talmente potente da potersi permettere il lusso di concedere una certa libertà decisionale alle proprie figlie però appunto parliamo di lusso e quindi di eccezione ok nella maggior parte dei casi ripeto la donna non aveva voce in capitolo non solo per quanto riguarda il matrimonio ma ad esempio entrando nello specifico nell'Atene di epoca classica nella democratica e tanto illuminata Atene di epoca classica se un padre all'improvviso si ritrovava in ristrettezza economica o doveva salvare un debito saldare scusate un debito poteva imporre alla propria figlia di divorziare dal marito questo in assenza di figli chiaramente perché perché con il divorzio e il rientro della donna in famiglia il padre poteva recuperare la dote quindi non solo la donna non aveva un capitolo sul matrimonio ma neanche sul divorzio ok poi per carità esisteva una legge ad Atene che permetteva alle donne di rivolgersi direttamente all'arconte da sole e chiedere un divorzio motivato però è anche vero come ci racconta Plutarco che quando la moglie del famoso Alcibiade ci prova Alcibiade la prende per i capelli e la riporta a casa letteralmente ok trascinandola per le strade pubbliche di Atene anche a Roma la situazione poi non era più rosea anzi addirittura a Roma c'era questo costume di prestare la propria moglie ad un parente o ad un amico Plutarco ci racconta nella vita di Catone appunto della seconda moglie di Catone Marcia la quale viene prestata ad Ortenzio Ortenzio desiderava avere dei figli sperava che questi in qualche modo fossero imparentati o comunque legati a Catone quindi in prima istanza chiede la moglie della figlia che però era già sposata felicemente sposata giungo e con dei figli quindi Catone non se la sente di farla divorziare allora Ortenzio alza il tiro e ci prova con la seconda moglie di Catone all'inizio Catone è un po' dubbioso insomma chiede consulta a un paio di amici in particolare al padre di Marcia quindi chiede consiglio a tutti tranne alla diretta interessata e alla fine consente ci tengo anche a sottolineare che nel momento in cui viene costretta ad abbandonare la sua casa e viene inviata a casa di Ortenzio quasi completo sconosciuto certamente sconosciuto dal punto di vista intimo da quel che noi sappiamo poi lei era già incinta di Catone quindi incinta prossima al parto viene costretta ad andare a vivere con un altro uomo con la prospettiva di rimanere subito incinta dopo il parto e sappiamo benissimo che cos'era il parto insomma non solo doloroso ma estremamente pericoloso nel mondo antico non è un caso che ad esempio a Sparta alle donne morte di parto la città tributava gli stessi onori dei guerrieri caduti in battaglia quindi insomma non è esattamente un'operazione così semplice e sicura ok con Giuliana ritorniamo al mito visto che ci siamo così divisi un po' i compiti in cui troviamo tutta una serie di donne l'abbiamo già anticipato alternative che nel libro lei definisce appunto trasgressive e a differenza delle donne del mito della storia di cui abbiamo parlato fino ad ora esse incarnano un ideale di vita e di sapienza altra rispetto a quella maschile agli occhi del mondo declinato appunto al maschile sono figure inquietanti terribili pericolose da prendere con le pinze sono solo un modello in negativo che la società maschile vuole scartare o c'è dell'altro? Allora sì c'è anche dell'altro diciamo che questa cosa della sapienza altra è stato un po' il punto di partenza del mio libro inizialmente il libro doveva chiamarsi pericoli del sapere femminile che poi è diventato il capitolo centrale comunque uno dei capitoli centrali del libro e questo nasce un po' da una mia passione se così per continuare la parte un po' autoreferenziale da una mia passione che ho avuto ancora prima degli anni dell'università proprio dal liceo cioè io la prima volta che ho studiato la Medea mi sono innamorata di Medea ma me ne sono innamorata e già allora che veramente era una studentessa giovane trovavo che c'era qualcosa che non andava nello stigma che Medea e non solo lei si portava dietro cioè Medea come molte di queste trasgressive gli abbiamo appiccicato un'etichetta un'etichetta che non ci consente di andare oltre quindi Medea è la per eccellenza l'infanticida ovviamente se uno pensa a Medea e quindi in qualche modo il male assoluto uno che uccide i propri figli così come Cliteminestra è la sposa fedifraga che uccide il marito Elena è la donna traditrice un po' anche di Elena per esempio in realtà io ho scoperto delle cose molto più profonde ma questo ci induce beh innanzitutto una cosa che dovremmo fare sempre con chiunque e in qualsiasi situazione al di là degli studi classici ad andare oltre le etichette perché le etichette non ci consentono di capire veramente le cose e ritornando invece appunto alla tua domanda e a Medea e al sapere è vero come Dea come Circe come in parte Elena ma non solo fa parte di un gruppo di personaggi che conoscono e hanno un sapere una sapienza altamente pericolosa innanzitutto la sapienza è pericolosa a tut cur sempre che venga dai maschi o che venga dalle femmine più uno sa più uno chiaramente può anche oggi anche oggi tantissimo anche oggi e quindi se poi viene da una donna e questo sapere è un sapere molto diverso da quello ufficiale da quello maschile perché il sapere di Medea come il sapere di Circe è il sapere più istintivo lei conosce le erbe conosce il greco le definisce farmachides che è un po' un termine un po' intraducibile il farmacon la parola farmacon in greco indica una sostanza con un determinato potere potere che può essere usato sia a titolo diciamo di guarigione come a titolo di non guarigione ma di veleno di avvelenamento quindi è un significato profondamente ambiguo ed è un sapere che poi viene tramandato in tutta la cultura ed è di solito patrimonio delle donne a Roma c'era il santuario della Bonadea dove c'erano una sorta quasi di potremmo dire farmacia del mondo romano anche quella di esclusivo uso femminile da cui i maschi venivano esclusi quindi avere una Medea che conosce profondamente l'utilizzo delle erbe le sa usare per fare del bene ma per fare del male e inoltre Medea ricordiamoci che porta su di sé anche un altro elemento di devianza che non è una donna greca è una principessa peccato che lei giustamente ci ricorda signori io sono la nipote del sole non sono una XY Medea ovviamente sarà trasgredirà nel senso che non accetterà un determinato ruolo non accetterà di fare la vittima quando Jason appunto deciderà di ripudiarla decide che lei non ci sta lei è veramente come un grande eroe della tragedia di Asisofoco che decide vado oltre ma una figura che così mentre su Medea su Circe tutto sommato possono essere abbastanza intuitive mi aveva colpito e vi ringrazio per avermelo anche risottolineato nel nostro incontro la figura di Cassandra io non avrei mai pensato di inserire Cassandra perché Cassandra un po' nell'immaginario appunto nell'etichetta è un po' succube no? cioè vive questo destino un po' avverso nel senso che ha questo grande dono della preveggenza quindi prevede il futuro ma contemporaneamente nessuno le crede e anche questa è una punizione da parte di un dio di Apollo Apollo lei è la più bella sembra delle figlie di Priamo Apollo se ne invaghisce lei un po' ci gioca no? perché comunque inizialmente gli promette i suoi favori purché lui le faccia appunto il dono della profezia poi però si tira indietro e fa un atto volontario all'ultimo momento dice no Apollo le chiede almeno un bacio lei la consente perché sembrava almeno forse di riparare il suo tradimento ma Apollo si vendica e attraverso uno sputto pensate c'è le sputa in bocca e con questo sputto le dà il potere divinatorio ma le toglie una delle cose che per il mondo greco è fondamentale ne sono usciti tanti libri che è il potere della persuasione di Peitò Peitò sarà infatti una delle figure tipiche del corteggio di Afrodite proprio perché persuade ora perché Cassandra è una trasgressiva perché è una sapiente il coro dell'Agamennone la definisce spesso tu sei una sapiente come tale sei pericolosa perché sa troppo al di là che non le crede nessuno ma questo suo sapere la mette in qualche modo al riparo anche dalle sofferenze che lei vive perché lei non solo le vive e le vive in anticipo lei vedrà la distruzione di Troia prima e nessuno le crederà vedrà il suo destino di concubina e preda di guerra di Agamennone vedrà il suo diciamo l'uccisione di Agamennone da parte di Clitem e nella sua uccisione nessuno le crede ma lei non è mai vittima in questo senso l'Agamennone di Seneca è significativo forse ancora più dei testi greci perché quando il coro vuole unirsi al pianto lei lo rifiuta dice io non ho da piangere io vado oltre tutto questo e inoltre Cassandra porta su di sé un altro simbolo di trasgressione che è la verginità Cassandra sceglie di essere vergine poi verrà in realtà stuprata sappiamo da Iace e appunto Agamennone fa preda di guerra ma lei sceglie la verginità e la verginità nel mondo greco è sempre un segno altro un segno di devianza il mondo greco accetta la verginità solo se appartiene o al divino e quindi abbiamo le tre dei vergini Artemis Estia e Atena oppure se la verginità è una qualche cosa in cui tu ti dedichi esclusivamente ti voti esclusivamente alla divinità mi viene in mente non so la pizia per esempio la sacerdotessa d'Apollo è una vergine se la verginità è una scelta libera e per Cassandra è una scelta libera questa è una divianza è una divianza e come tale è pericolosa per cui in qualche modo la linea conduttrice del libro è proprio questo sono tutte figure che in vario modo anche con la violenza spesso con la violenza qualche volta violenza rivolta a se stesse perché molte di queste sono suicide Medea è un po' un'eccezione Clitemnestra una perché viene uccisa e Medea perché uccide e in qualche modo è l'unica che proprio ha una vita poi solare se vogliamo pur straziando ricordiamoci quando pensate Medea infanticida ricordiamoci che lei prima di essere infanticida è chi si strazia il ruolo di madre perché l'unica personaggio che poteva indurre Medea a non uccidere i propri figli è Medea stessa il soliloco che fa con sé è emblematico quanto il sapere sia pericoloso lo dimostra il tentativo di così far tacere e anacquare la scuola questo mi mi rivolgo un po' ai ragazzi rituffiamoci nella nella storia dove ad un primo sguardo le trasgressive mancano le donne eccezionali sono piuttosto quelle che incarnano al massimo grado quelle che sono quelli che sono i ruoli creati per la donna da una società maschilista cioè le le madri le mogli le figlie straordinarie le donne fuori dagli schemi insomma che abbiamo visto nel mito e che costituiscono fonte di ispirazione per i poeti sembrano scomparire se guardiamo al mondo al mondo reale osservando meglio e cercando sotto la superficie la situazione è diversa penso non so ad Aspasi a Ipazia qualcosa grattando grattando vien fuori sì 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 c'erano c'erano confermo di donne appunto trasgressive nella storia ce ne sono state in realtà tante sia i personaggi più famosi come quelli che ci ha fatto sia le donne più diciamo tra virgolette comuni nel senso più positivo del termine ovviamente certamente certamente fu trasgressiva una Aspasi costretta a prostituirsi fin dalla giovanità a causa delle condizioni economiche della sua famiglia si trattava di stranieri che vivevano della raccolta e vendita dei capperi al mercato quindi gli intronuti non erano poi tanti nonostante le umili e difficili origini Aspasia diventa comunque una delle donne più discuse famose ma anche potenti di Atene perché perché per lei Pericle lascia la prima moglie diventano conviventi e secondo i delatori di Pericle e di Aspasia di fatto nella seconda metà del V secolo è Aspasia che governa Atene attraverso i suoi consigli attraverso il suo potere di persuasione per l'appunto su Pericle Aspasia però aveva anche numerosissimi oggi diremmo fan tra i quali spunta anche Socrate il quale consigliava ai mariti ateniesi di inviare le proprie mogli a casa di una prostituta perché Aspasia questo era oggi forse la definiremo una sorta di escort cioè una prostituzione esatto a livelli alti appunto di inviare le mogli a casa di Aspasia per imparare la fine arte dell'amministrazione perché Aspasia gestiva i propri proventi da sola e lo faceva in maniera perfetta o ancora ad esempio fu trasgressiva una Teodora tutti voi conoscete l'imperatrice moglie di Giustiniano I rappresentata nei mosaici a Ravenna in pochi sanno che Teodora era una prostituta figlia di un circense rimasta orfana da bambina fu avviata a questa professione dalla madre insieme a tutte le sue sorelle e iniziò tra l'altro a prostituirsi quando ancora era una bambina tanto che le fonti ci dicono all'inizio non poteva neanche avere rapporti completi con i clienti tanto era piccola immaginate eppure Teodora non accetta di subire il fatto di subire appunto questa questo inizio così sfortunato e difficile diventa imperatrice e non soltanto diventa la moglie di Giustiniano ma diventa anche la confidente la consigliera le fonti ce la presentano come una donna dotata di un'intelligenza politica non comune ok o ancora fu trasgressiva una buddhica qui siamo in Britannia siamo in epoca romana che non accetta di subire le umiliazioni dei romani e anzi si mette a capo di una rivolta la guida e preferisce la morte alla sconfitta alcune fonti quelle pro impero ci dicono che in realtà si ammala e muore altre un pochino più sincere ci dicono che i cassi si uccide quando perde l'ultima battaglia quindi meglio la morte che la sottomissione però tornando invece alle donne più comuni diciamo secondo me merita una missione d'onore Hortensia Hortensia infatti decide di prestare il suo servizio di rappresentare le matrone romane contro esatto contro i tre uomini più potenti della sua età parliamo dei triunveri Lepido Marcantonio e Ottaviano i quali all'indomani della morte di Giulio Cesane per finanziare quella che di fatto fu una guerra civile all'interno di Roma decidono di imporre una pesante tassazione sulle millequattrocento donne romane più ricche queste donne non ci stanno in prima istanza si rivolgono insomma presentano le loro rimostranze alle parenti donne dei triunveri alcune non le ascoltano altre proprio gli chiudono gli sbattono la porta in faccia letteralmente e loro cercano un avvocato nessun uomo accetta la causa lo fa soltanto Hortensia istruita nell'arte retorica dal padre che era un famoso e rispettato retore dell'epoca e Hortensia pensate di fronte a tutto il popolo romano nel foro sfida i triunveri con una domanda banale ma allo stesso tempo assordante come diceva prima Giuliana cioè di fronte ai triunveri chiede perché le donne dovrebbero pagare le tasse se non sono né rappresentate dalla repubblica né tantomeno tutelate perché io donna dovrei contribuire ad un sistema che non mi rappresenta e non mi tutela i triunveri non sanno rispondere e danno l'ordine ai soldati di cacciare le donne ma il popolo romano insorge le difende e alla fine i triunveri fanno un passo indietro tassano soltanto 400 donne su 1.400 e il resto delle imposte le pagano gli uomini che non è male insomma come Vittoria nel piccolo abbiamo ci siamo aggirati insomma tra mondo romano e mondo greco spesso viene percepito come un unicum ma chiederei a Giuliana se nella percezione del femminile tra questi due mondi c'è una qualche differenza significativa sì assolutamente nel senso che pur partendo dall'assunto che anche il mondo romano è come un mondo profondamente patriarcale cioè il pater familias ha il potere assoluto ma soprattutto alle origini la situazione è molto diversa mentre nel mondo greco la donna è vissuta come un genere altro non appartiene è la razza delle donne quelle venute dopo Pandora quindi l'uomo greco le sente proprio estrane da sé non appartengono alla sua proprio alla sua umanità e in questo senso appunto sappiamo come come viene percepita quali sono le virtù che deve avere ed è assolutamente privata di due cose fondamentali che Virginia Woolf in un famoso appunto testo un'altanza tutto per sé ha citato più volte come uno degli elementi cardini per l'emancipazione vale a dire un'indipendenza economica e la possibilità dell'istruzione ecco in realtà invece le donne a Roma almeno nelle prime fasi della Repubblica avevano questa possibilità la stessa Hortensia infatti era stata istruita sappiamo per esempio che educavano i figli cosa che nel mondo greco assolutamente nel mondo greco la madre non è neanche madre cioè è veramente una generatrice una fattrice di figli possibilmente legittimi quindi il mondo romano inizialmente ha sia la possibilità di istruirsi che è una grande cosa ed è titolare dei diritti patrimoniali lì però che cosa succede succede che a un certo punto le donne le donne romane cominciano a usarli questi questi diritti e quando l'uomo romano si accorge che cominciano a usarli allora cerca di correre ripari con una serie di provvedimenti legislativi che in Grecia non c'erano ma perché non servivano per arginare detto ciò è significativo un ultimo così proprio un'ultima chiosa su una serie di figure che il mondo romano presenta che al contrario del mondo greco sono figure molto positive mi viene in mente tra tutte Clelia Clelia sono figure non sono figure mitiche sono figure che però sembrano quasi degli aneddoti molto così che ci vogliono dire qualche cosa però anche lì sono andata un po' a scavare perché Clelia è un personaggio estremamente positivo siamo durante la guerra tra Porsenna e i Romani quindi siamo nel 507 avanti Cristo Clelia viene nel patto diciamo di pace tra i Romani e Porsenna Clelia viene data in ostaggio a re Porsenna ma Clelia riesce a fuggire riesce a fuggire con un'impresa eroica nel senso che porta con sé anche le altre donne che erano tenute in ostaggio fuggendo a nuoto nel Tevere e rientra a Roma ovviamente essendo quella una parte del trattato di pace Porsenna la rivuole e dice qui le cose non vanno bene i Romani accettano di riconsegnare Clelia ma Porsenna rimane assolutamente ammirato dall'impresa Livio la chiama Dux Agminis come un condottiero rimane talmente colpito che le concede nuovamente di rientrare a Roma portandosi dietro anche un certo numero di ostaggi e Clelia sceglie tra l'altro i più giovani perché avrebbero potuto ovviamente proseguire la guerra ma al di là della storia a Clelia poi viene addirittura attribuita una statua equestre che era una delle diciamo degli onori che venivano attribuiti ai condottieri allora mi sono chiesta il perché allora c'è ovviamente questo ve lo dico come ipotesi perché poi qui potremmo parlarne all'infinito è veramente una figura così positiva sicuramente sì però in qualche modo ricorda quella fase che sono dei riti di passaggio nel senso che i riti di passaggio che sono quei riti che portano in qualche modo il passaggio da un'età a un'altra di solito dall'età infantile all'adolescenza o dall'adolescenza all'età edulta studiati da tutta l'antropologia prevedono sempre tre fasi che sono la separazione la segregazione e poi l'aggregazione nella nuova età ora nella fase della segregazione si fanno e compiono tutta una serie di di atti altri di altri anche molto trasgressivi la goghe spartana è significativa dove il ragazzo doveva uccidere uccidere fare una serie di cose che non sono propriamente del vivere civile per poi essere in qualche modo riaggregati ora la vicenda di Clelia non solo lei ma anche di Camilla con anche l'elemento dell'acqua che non è così trascurabile sembra quasi essere un simbolo di una civiltà preattuale è vero che la donna può fare anche quello ma non lo è nell'attualità nell'attualità dobbiamo ritornare sotto il dominio del pater familias la conclusione a Eleonora poi vediamo se c'è qualche domanda da parte del pubblico a scuola abbiamo tutti conosciuto le matrone romane che incarnano le virtù tradizionali femminili vi saranno però anche delle figure così meno conosciute che vengono fuori dalle fonti epigrafiche che vengono fuori dalla vita più reale c'è da dire qualcosa qui sì allora una brava moglie non importa se greca o romana doveva essere ovviamente modesta casta operosa e prolifica le fonti le iscrizioni funerarie romane sono particolarmente precise nel delineare e nel presentare il modello ideale di matrona che appunto doveva essere innanzitutto semplice nell'educazione modesta nel senso che non doveva amare il lusso non doveva eccedere doveva essere operosa rifugire la vita pubblica possibilmente occuparsi dei figli sia fisicamente che come ha detto Giuliana per l'educazione e ovviamente essere casta e pudica quindi ricercare i rapporti solo con il marito legittimo ancora meglio se unicamente finalizzati alla procreazione quindi il desiderio della donna lo mettiamo proprio da parte ce lo dimentichiamo per sempre questo è l'ideale ok poi c'è la vita reale per fortuna aggiungo ad esempio soprattutto quando parliamo della tarda età repubblicana e di quella imperiale a Roma Ovidio che scrive all'epoca di Augusto ci dice che ormai sono pochissimi i romani che disdegnano di farsi accompagnare dalle mogli negli eventi pubblici e soprattutto nei banchetti mentre invece secondo lui Roma avrebbe dovuto prendere esempio dalla Grecia in particolare da Atene dove le donne non soltanto subivano una segregazione nel mondo pubblico ma vivevano segregate socialmente e fisicamente anche all'interno della loro casa una donna non poteva andare ad aprire la porta e far entrare un ospite se questo era un maschio assolutamente anzi nella prima adolescenza prima del matrimonio venivano persino vietati i contatti con i parenti uomini quindi non soltanto con gli estranei o ancora Seneca ci dice che ormai le nobili donne romane contavano la loro età basandosi sulla serie dei consoli ma sul numero dei loro mariti perché nella mentalità romana era importante avere o aver avuto un unico marito quello era proprio il massimo il top per una matrona romana chiaramente queste sono un po' delle provocazioni e delle esagerazioni però è verissimo come diceva Giuliana che le donne conquistano una certa libertà a Roma in epoca imperiale e a nulla valgono i tentativi di rimetterle a posto si ribellano in tutti i modi legali o meno quindi vanno contro sia gli ordinamenti del mos maiorum che contro la legge ritornando a Dorotensia dico questa cosa proprio una parentesi prima all'inizio della Repubblica il mos maiorum era talmente forte talmente interiorizzato da tutti sia dagli uomini che dalle donne che i romani non avevano neanche sentito il bisogno di mettere per iscritto alcune leggi il mos maiorum prevedeva che una donna non parlasse in pubblico Ortenzia quando sfida gli uomini nel foro non contraviene a una legge scritta contraviene al mos maiorum e lì i romani iniziano a chiedersi ma forse avremmo dovuto metterle per iscritto insomma queste cose ok quindi siamo molto lontani dall'esempio di una Lucrezia che sentendosi violata preferisce uccidersi piuttosto che vivere nella vergogna ok questo non significa che a Roma non siano esistite delle donne capaci di avvicinarsi al modello ideale per esempio Cornelia la famosa figlia di Scipione l'Africano e madre dei due gracchi dai tribuni della plebe fu una di queste tanto perfetta che Roma le tributò una statua pubblica della quale a Roma conserviamo ancora il basamento purtroppo la statua è andata perduta Cornelia è un esempio perfetto secondo i romani perché rimasta vedova a 35 anni sceglie di non risposarsi rifiuta perfino addirittura un membro della dinastia dei Ptolemei e decide di dedicare il resto della sua vita alla cura e all'educazione dei figli pensate che ne ebbe 12 ma soltanto 3 arrivarono in età adulta cioè due gracchi e una donna alla quale fu sempre molto legata Cornelia viene apprezzata innanzitutto appunto per aver avuto un unico marito per essersi dedicata ai figli per averli presentati secondo una nera aneddoto come i suoi veri gioielli e quindi aver dichiarato pubblicamente che non aveva bisogno di gemme preziose di gioielli e quindi di spendere quindi del lusso come vi dicevo prima rifugi sempre le occasioni pubbliche non cercò mai di mostrarsi troppo insomma eppure nonostante questa sua perfezione nonostante fosse apprezzata sia dai suoi contemporanei che dai successori sicuramente Cornelia non era semplice nell'educazione il padre Scipione le diede un'educazione che molti uomini le invidiavano tant'è che fu al centro di un'attività insomma di un circolo intellettuale piuttosto vivace e attivo se è vero che fu sempre molto composta non si lasciò mai andare anche quando uccisero i figli era molto importante a Roma non eccedere in quelle scene strapparsi i capelli piangere urlare non veniva considerato esatto la moderazione era sempre molto importante Cornelia non mostrò mai in pubblico la sua tristezza il suo dolore parlava sempre con orgoglio anche dei figli morti uccisi violentemente però sappiamo anche che quando erano in vita dispensò consigli cosa che secondo il Mos Maiorum era meglio non fare ok quindi pensate persino la donna che più si avvicinava al modello ideale nel suo piccolo aveva mille declinazioni mille spacettature che un po' insomma un po' trasgressiva lo era anche Cornelia alla fine ecco grazie abbiamo ancora tre minuti per una domanda oppure dobbiamo chiudere chiedo alla regia perfetto allora via alle domande del pubblico se ce ne sono prego c'è qualcuno che arriva il microfono ringrazio nel mentre le due relatrici sono state chiare un applauso se lo meritano avete parlato di piacere femminile so che esiste un mito secondo cui Hera e Zeus discussero su chi provava più piacere durante un rapporto e chiesero a Tiresia la risposta spesso un mito riflette una curiosità sociale il piacere della donna in tarda età repubblicana ad esempio era considerato disdicevole come della morale giudaico cristiana grazie bella domanda no allora è verissimo sì il mito con Tiresia che prova tutte e due i piacere e alla fine dice gode di più la donna di più e meglio esatto di più e meglio e viene punito per questo chiaramente Zeus non la prende bene ha ceccato esatto allora sì viene sempre considerato disdicevole tant'è che sia in epoca tardoripubblicana ma soprattutto in epoca imperiale se si voleva distruggere l'immagine di una donna la si presentava come una donna dedita al piacere nel senso che era una donna non che banalmente diciamo si prostituiva o si concedeva a tanti uomini ma che ricercava il piacere lo voleva provare e quindi stava con tanti uomini per sua volontà per soddisfare un suo desiderio lo vediamo appunto nelle varie compagnie ma anche imperatrici quando appunto le si accusava senza far nomi di tingersi i capelli di andare nei lupanari sotto mentite spoglie e prostituirsi o addirittura fare gare con prostitute succhine andava a letto con più uomini quindi assolutamente non viene sempre disprezzata la donna che ricerca il desiderio sessuale perso e non a fini legittimi mi viene in mente anche il ritratto di Sempronia che fa Sallustio all'interno della congiuria di Catilina dove uno degli elementi più negativi di Sempronia è che Alila che sapeva ballare danzare eccetera però ricercava il piacere personale come sindaco proprio di negatività assoluta eccoce n'è l'usanza nel mondo romano di dare la propria moglie agli amici gli ospiti anche per procreare può essere paragonato all'utero in affitto sì e no inizio dal no perché perché l'uso di dare di prestare la moglie ad un amico veniva comunque mascherata come un bene pubblico per la società e lo Stato io ti presto mia moglie perché non voglio far morire la tua famiglia che magari una famiglia importante perché i poveri non lo facevano chiariamo questa cosa bisognava essere piuttosto autolocati e provenire da una famiglia importante quindi io ti presto mia moglie per non far morire la tua famiglia farti avere degli eredi in modo tale da non disperdere il patrimonio permetterti di pagare le imposte avere dei figli da mandare in guerra quindi è comunque una cosa ha un'utilità pubblica mentre invece nell'utile è chiaro che lo si fa per rendere insomma felici i singoli individui ecco comunque insomma la famiglia in sé ecco ha una dimensione più privata poi ancora un no però qui mi spingo su un terreno molto scivoloso nel senso che potrei dire che nel mondo romano il parere della donna non veniva considerato nel caso dell'utero era affitto in teoria in teoria chi affitta l'utero lo fa di sua spontanea volontà poi chiudiamo gli occhi sul fatto che chi lo fa spesso volentieri è molto povero e quindi lo fa per sistemarsi insomma perché l'unica cosa che ha è davvero il suo utero e quindi e lì ritorniamo insomma alla soggettività annullata dal nostro corpo insomma perché poi di noi stiamo parlando ecco e quindi direi che sì come risposta predominante direi no ecco non è la stessa cosa poi non so se Giuliana vuole aggiungere sono cioè d'accordo ma proprio perché c'è questa c'è il prestito della donna nel mondo romano e proprio perché la donna in questo senso diventa un bene pubblico un bene pubblico a uso e consumo ovviamente dello Stato della res pubblica no c'è comunque questo grande senso e mentre appunto sì nell'utero in affitto parliamo di cose che vanno veramente nella sfera intima e privata ad esempio aggiungo solo questa cosa che magari può essere un po' a Sparta anche a Sparta c'era questa cosa di prestare la donna però è molto interessante perché anche la donna poteva pretendere un altro uomo cioè se io non riesco a concepire no e ho un'eredità e non la voglio perdere perché a Sparta anche le donne potevano eredità uniche in tutta la Grecia da quello che sappiamo poi poi insomma bisogna sempre però in mancanza di figli perché magari non si riusciva a concepirli oppure li avevo concepiti ma non ero del tutto soddisfatta e c'era il bel guerriero potente potevo chiedere di avere un figlio anche con lui e questo era consentito quindi insomma c'è anche l'altra parte della medaglia volendo che comunque è sempre in funzione di creare dei nuovi guerrieri spartani guerrieri e non perdere il patrimonio perché è molto importante questo ce n'è ancora ce n'è ancora una se riusciamo e poi credo dovremmo chiudere grazie tutto molto interessante volevo chiedervi qualcosa sulla trasmissione anche in un certo senso della storia come viene tramandata e in qualche caso mi verrebbe da dire ritoccata perché mi sono ricordata di quando Virgilio chiede a Catone un po' di indulgenza e gli ricorda Marcia e noi leggiamo che Catone è scostante come se fosse stata Marcia a volersene andare con Ortensio quindi povero Dante probabilmente non va a letto Plutarco o è un ritocco così diciamo consapevole grazie Plutarco usa una frase che secondo me è molto esplicativa cioè lui dice che Catone dà Marcia ad Ortensia come un terreno fertile per la procreazione di figli quindi è un bene patrimoniale Marcia almeno da come ce lo presenta Plutarco poi è chiaro le fonti sono per la maggior parte scritte da uomini e di questo dobbiamo sempre tener conto ed è anche chiaro che un uomo che vuole non soltanto raccontare ma anche istruire in stradare in qualche caso anzi moltissimi casi ha da guadagnare nel dire insomma che una marcia lo fa volentieri no proprio per cui la questione di utilità pubblica marcia è una brava moglie è una brava donna ottempera fedelmente e con amore ai suoi doveri quindi per lei non è assolutamente un peso rimanere costantemente incinta e partorire e acudire i figli non è un problema per lei poi probabilmente non sapremo mai come andarono davvero le cose quindi se marcia sia stata davvero consenziente se lo fu magari non perché era intimamente convinta e desiderosa di andare con l'ortensio ma perché aveva talmente assorbito l'educazione che per lei era normale e quindi non aveva nessuna intenzione di ribellarsi purtroppo non avendo fonti scritte da uomini cioè scusate scritte da donne in questo caso scritte da marcia non saprevo mai davvero marcia pensava di questo prestito infatti volevo solo aggiungere ma per chiudere proprio con una affermazione che faceva la Nicollorò che è una delle più grandi grecilte che se le donne greche ma mi viene da dire anche se le donne romane avessero potuto parlare e se noi veramente potessimo ascoltare le voci delle donne greche e delle donne romane forse questo incontro avrebbe anche preso tutta un'altra piega perché purtroppo non c'è dato di sapere noi comunque dobbiamo fare una ricerca basandoci esclusivamente su fonti unicamente maschili e da lì cercare di interpretare sapendo che comunque l'interpretazione può essere comunque soggettiva e può non essere comunque quella corretta però allo stato attuale purtroppo è questa la situazione questo c'è bene allora io chiuderei con con un pensiero rivolto ai ragazzi visto che qualcuno c'è qui e allora allora io vedo che i miei studenti a volte hanno un brutto rapporto con la storia e allora li esorterei a guardare a guardare alla storia come l'agricoltore guarda al lavoro dei campi se si bada soltanto alla fatica del momento allora c'è veramente da demoralizzarsi se invece si ha una vista un pochino più lunga e si riesce ad immaginare il raccolto allora forse si capisce che la fatica è il prezzo o un prezzo da pagare e immagino che ognuno di voi a questo punto può capire quale sia il vostro raccolto e quest'oggi insomma abbiamo un esempio tangibile di quello a cui serve la storia non sono una serie di date di dati che si imparano a memoria e finisce lì la storia serve a pensare a renderci conto chi siamo e anche dove vogliamo andare soprattutto grazie a tutti e buona giornata grazie 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 grazie